Il Casarano tiene il passo del Taranto, il Bitonto non trova invece la vittoria che manca da un mese. 1-3 al città degli Ulevi nel recupero della 14esima giornata del gruppo H di Serie D, partita decisa tutta nel secondo tempo. La copertina di Rodriguez inserito a metà ripresa da Orlandi è determinante con un gol e un assist. Le formazioni, Bitonto in emergenza con ben 10 assenti, spazio al 3-5-2, Capeccia al centro della difesa, Esposito e Lattanzio in avanti, 4-3-3 per Orlandi che si affida al tridente, Mincica, Favetta, Ficara. Pronti via e brivido per la porta di casa, Mincica calcia una punizione dai 30 metri, Zinfollino non trattiene, poi la difesa libera sull'incursione di Ficara. Al quindicesimo protesta il Bitonto, su cross da destra Pitarresi e Mattera si scontrano, il portiere perde la presa del pallone nell'impatto, Lattanzio calcia e la difesa libera, Bracaccini ferma però il gioco per il duro scontro. Cambio obbligato per Orlandi che perde Mattera e inserisce Figliomeni in difesa. Su un affondo di Lattanzio su invito di Montinaro, Pitarresi e Figliomeni vanno a contatto, Bitonto che chiede un rigore per un tocco di mani del difensore, non ravvisato dall'arbitro. L'occasione più limpida del primo tempo arriva al 32esimo sulla testa di Favetta, Ficara assiste da destra, il 9 risponde presente all'impatto aereo, Zinfollino battuto, mira imprecisa, il pericolo mette in allerta il Bitonto che reagisce, Silvio Colella dipinge da destra, Lattanzio stacca sul dischetto, pallone sul fondo, l'ultimo brivido è firmato Tascone, botta dalla distanza che non trova la porta per pochi centimetri, si va a riposo senza reti. Si riparte senza novità ma a cambiare dopo meno di due giri di lancette il risultato, filtrante di Bruno, Mincica dai 25 metri, controlla di sinistro e calcia di destro, Saetta all'incrocio dei pali, Zinfollino si distende ma non basta, 0-1 e quarta rete in campionato per il 10 rossazzurro. Il Bitonto prova a reagire ma il Casarano punge in contropiede, escursione di Quacquarelli in area neroverde, Favetta va al tiro, muro di Petta. Doppio cambio per Orlandi all'ora di gioco, Argento e Longhi per ficare Quacquarelli si passa al 5-3-2, sei giri di lancette e matura la chance per il pareggio della formazione di Loseto, Ghiotto invito di Tarantino da sinistra, Mariani rompe a centro aria ma in spaccata non trova la porta. Orlandi assicura freschezza all'attacco con Rodriguez per Favetta al settantesimo, al primo pallone toccato il nuovo entrato è decisivo, si avventa su invito in profondità di Mincica, entra in area, mette a sedere Capece e con un colpo da biliardo batte Zin Follino, 0-2 e nono centro stagionale. Il Bitonto non si scompone e reagisce, dalla bandierina va Montinaro, il tocco di maniche Bracaccini vede di Longhi. Dal dischetto si presenta l'attanzio, conclusione centrale, respinta di Pitarresi con i piedi, ma sul pallone si avventa Tedesco appena entrato per esposito, tapin e risultato di nuovo in bilico. La rete dell'1-2 cambia gli equilibri del match, Silvio Colella offre in profondità per l'attanzio, che tarda alla conclusione e si fa murare in corner, dalla bandierina la palla arriva Petta, che spreca così da ottima posizione. Tedesco cerca il jolly su punizione, ma trova solo l'esterno della rete. Negli spazi in contropiede il Casarano fa male, Rodriguez si allarga a sinistra, appoggia per Argento che mette il turbo, controlla e batte Zin Follino. E la parola fine sulla partita, con il risultato che non cambia nei 4 minuti di recupero. Casarano che accelera in trasferta, dove sin qui aveva ottenuto solo 12 punti, Bitonto che invece si ferma e ora ripartirà dal confronto interno di domenica contro il Francavilla.